salve a tutti ragazzi e benvenuti a servire questo nuovo video di minecraft della sky factory 4 bene ho fatto un po di cose ho messo due casse qui ho fatto so è brutto da vedersi ma è una cosa momentanea perché mi serviva da fare due tre cosine qui ho messo l'iron l'affare qui ho messo la dirt qui ho messo il bone e bone e qui la clay ma è una cosa momentanea perché sposterò perché questo mi serve per fare altro qua ho messo direttamente l'ho spostato da lì l'ho messo qua così a meno quando mi serve prendo mi prendo uno stack di questi mi faccio tanto tanto di quella roba questa è momentanea perché faremo la smelter perché questa è la smelter è molto limitata e quindi poi cosa ho fatto ho messo la cassa qua che siamo a posto ho messo quello del coal fare qua che ho fatto altri bonsai potter e ho messo da fare quello della gravel qui poi cosa ho fatto visto che c'era andando avanti con le quest perché dopo mi sono informato ma cavoli deve capirci un po di più in questo pack mi interessa e quindi mi sono un po provato a guardare il libro delle quest no l'ho sfogliato un po visto un po di cose interessanti in che ho fatto l'albero della tin come ho fatto a fare l'albero del tin è stato semplice praticamente ho preso lì dal borsello però come si fa il borsello ho preso semplice mont il sand sapling l'ho messo il nostro cussibor con l'acqua e mi ha fatto l'albero del boscello l'ho preso e l'ho messo nel nostro melter insieme nel nostro melter e gli ho buttato il tin come ho fatto buttare il tin direte ma se devi fare il tin come ho fatto il tin gli ho fatto l'ambertin che l'ambertin è qua e si fa così con roba che noi avevamo con ebone la clay la gravel la selce e basta così facendo ho fatto un lingotto di tin perché questo bruciandolo diventa un lingotto perché se noi spingiamo u e bruciamo è diventato un lingotto l'ho messo nella melter e dopo gli ho versato il mio sapling semplicemente così facendo così e glielo ho versato una volta che glielo ho messo qui dentro a meltare poi un'altra cosa che volevo fare insieme a voi ho preso il coal sapling l'ho messo sempre nel nostro cussibor con l'acqua e mi ha fatto l'albero di quercia che cosa fa l'albero di quercia l'albero di quercia una volta messa nella nostra melter diventerà il lead naturalmente come facciamo dobbiamo fare il lead sepp il lead amber il lead amber vediamo se lo trovo speriamo di sì sono andato a cercare vediamolo vedete io non la vedo me lo sono perso porca vacca eccolo qua lead amber il lead amber che abbiamo messo qua come si fa si fa con un lapislazzuli che non abbiamo oppure oppure niente ci vuole il lapislazzo come il cazzo ci vuole ci vuole questo lead però non ce la posso fare ci deve essere un modo per capirlo dai un lapis fatemi vedere come cazzo posso fare un lapis ci sarà un modo astrusamente astruso per farlo adesso mi devo informaro perché non riesco a capirlo non doveva essere una cosa difficile però a quanto pare sì vediamo polvere a blue dye ho capito ma il blue dye non posso farlo vabbè mi informo comunque adesso lo mettevo da parte questo abbiamo fatto vi ho fatto vedere come adesso vi volevo dire una cosa o mi sono informato nel quest book non ho fatto niente di che ando avanti ho visto che qui c'era questo lo trovo è un attimo solo qua nelle ceste sta roba qui ho detto ma cazzo sembrano degli storage e che cavoli e allora ho letto che dice che praticamente è craftandolo è un barrel un drum o altro di questo tipo di storage sia questo che questo e questi sono i vari upgrade e al finalo si arriva questo e allora ho fatto sia questo che questo per provarli no ma è facile il crafting si faccia vedere uno l'ho messo qua e si fa così molto semplicemente e l'altro questa roba la togliamo scusatemi tanto togliamo questo togliamo questo togliamo questo togliamo questo togliamo questo e l'iron amber lo togliamo il market lo teniamo il bon amber lo togliamo e questo qui siamo a posto stavo dicionando come si fanno questi cosi qua questo qua è stato semplice una cassa con tre con sei sei cosi planks e abbiamo fatto non l'ho ancora provato però comunque è sempre la stessa cosa l'altro abbiamo visto per fare quello dopo dovrebbe essere questo ma ci vuole allora per fare questo è una cretinata ma ci vuole comunque fare questo un macchinario oppure la piasta che per fare la piasta ci vuole sempre questo cazzo di macchinario e quindi insomma siamo un po' bloccati per quel motivo lì però per il resto ho fatto quello basilare ma quello basilare si può ampliare con questi qua che si fanno con tre verticali plank a destra tre verticali a sinistra estrema due casse e in mezzo ci va una pedana e facciamo una pochettina da 64 64 per 64 dovrebbe essere perché prima era 64 64 per 64 era prima 64 per 64 il massimo con quell'upgrade dovrebbe essere arrivato un po' più là non so di quanto perché dovrebbe esserci scritto da un ulteriore 64 non lo so però comunque è più supera il limite del 64 quindi ho provato a farlo e ho detto funziona adesso sono contento facile da fare come vedete sia l'uno che l'altro non sono difficili e ho detto almeno così posso mettere un po' di roba perché ne avevamo tanta vedete ma proprio tanta tanta e adesso comunque appena capisco come fare dei cavi ho guardato c'è la thermal non li conosco bene i cavi della thermal perché ho sempre usato quelli di render io io e però quindi insomma devono farli tanto se ci sono quelli si farà qualcosa va bene bando le certi cento le bande vediamo un po' il libro delle queste per andare avanti lui effettivamente mi dice di fare questo il blue man group crafta lapis sapling quindi se io faccio il sapling lapis lui mi deve dire in modo per farlo perché se no non ha senso ampolla d'acqua ah ma allora si fa così ho fatto una bella figura di merda prima vabbè si fa l'uomo per ragionare con l'alboscello che abbiamo visto come si fa con un'ampolla d'acqua che io ho cotto infatti mi sembrava però sapete si può sempre sbagliare nella vita allora ho detto dai adesso andiamo avanti ed ecco le ampolle abbiamo l'acqua infinita adesso la mettiamo qui mettiamo via questa per il mod di Dio e un'ampolla solo oddio potete farne anche tre così almeno diciamo dopo le rifaccio non mi preoccupate devo prendere un po' di rosa adesso non mi ricordo assolutamente che cazzo devo prendere quindi io prenderò un po' di tutto tanti saluti a tutti insomma i pifferi vari vediamo se riusciamo già a farlo grazie cosa manca? manca ebon non ho preso ebon non ho preso ebon ebon è qua ecco qua adesso siamo a postolo quindi è una malattia che l'ho messo in tre parti diverse di queste cose e facciamo il nostro bel sapling di coso di cazzo mazzoli come si chiama di quello là il coso della cosa dai insomma chiaro no? e quindi ce l'abbiamo adesso devo fare un altro bonsai che ne abbiamo tanti adesso li metto a cuocere li ho fatti apposta perché così avevo un'altra roba da cuocere me ne ho scordato li ho fatti apposta tanti così almeno insomma sì chiaro no? ecco adesso andiamo avanti abbiamo fatto questo lì cosa ci chiede ramai acquir a blueslime oh cia boia il blueslime ma è una ficcata possiamo fare i piccioni appiccicosi il blueslime dovrebbe essere da queste parti qua come si farà mai sta roba? si fa con ah il lapis nella milk e io devo far sponare per forza le mucche mi sa che ci sarà anche un altro metodo vediamo un po' no lui dice proprio il secondo passaggio è quello ma sono abbastanza sicuro che ci possa offrire qualcosa di diverso un modo per farlo sto sapling ci sarà solo il latte devo far sponare una mucca? allora come si fanno sponare le mucche? adesso metto a ricordare io non lo so in questo pack come si faccia comunque la mucca è una cove vediamo se c'è qualcosa adatto ecco sì abbiamo risolto ogni problema ovviamente devo fare la mythical gigalcio che noi non possiamo fare perché comunque i chunk per ottenere devi ammazzarle quindi ci deve essere un altro motodo un altro motodo vediamo se lo trovo decorative mi devo informare perché così non ci posso arrivare e quindi siamo appunto da capo vabbè ci vediamo fra poco tanto che mi informo volevo andare a vedere anche altri qui c'era il redstone sapling che è qua che dice che si fa con questo qua però questo si poteva fare con la barbabietola a parte il fiore che non sono riuscito a far sponare però se non ricordo male noi avevamo un semi di barbabietola quindi diciamo ma sì possiamo usarlo io vorrei andare a usarlo perché scusate l'ho preso con tanta fatica qui ho fatto copiare un altro po' di animalo così almeno si è andato felice e io fare così puoi fare così mamma mia quanto ci vuole farlo crescere ok no mi è andato lì dentro non mi piace non posso prenderti ecco qua ho preso ho preso anche troppi insomma sì allora adesso ho preso anche questo andiamo a metterlo via per l'amore di Dio che insomma sì perdiamo le cose dopo il brutto e quindi io ne prenderei uno grazie uno e posso fare finalmente questo oh possiamo provare a fare il sapling qui ci vuole l'iron il 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 pietra scusate due iron e un pietro insomma è facile no bisogna andare qua si prende l'iron che deve essere di là e la pietri la pietro due di questi diciamo che è facile dunque dove era l'iron che non mi ricordo dove l'ho messo era questo quindi due tre non lo so ne ho preso un po' dai va bene e proviamoci e vediamo cosa salta fuori salta fuori la pillata perché io ovviamente non ho preso quello di coal eh ma mi sembra giusto no e vediamo quello di coal che ne ho pochi pochi eh siccome ne ho fatti poche volte mamma mia quanto li ho fatti e prendiamo anche questo ma che piacevole sorpresa così abbiamo anche quello allora io dove ho messo il lapis lo ho messo qua avrò fatto qualcosa sì qualcosina ha fatto quindi io farei una cassina eh piccolina se ne trovo le cose della cosa del coso dove cazzo è dove mi sono perso eh no no la torcia quello lì non serve eh a questo punto le prendo da qua c'è più tante eh e qui eh poi devo fare il bonsai hopper che ci vuole il ferro che ovviamente ne ho pochissimo adesso lo faccio e mi ci vuole ehm mi sto rincoglionendo cioè proprio sento che sto rincoglionendomi eh la questa ci sono arrivato poi ci arrivavo anch'io allora quindi vi serve il ferro quindi per fare il ferro che vi ho fatto questo dovrebbe essere una chettinata adesso farlo quindi prendiamo un po' di questo un po' di questo e ci accingiamo farlo il ferro quindi su questo e così certo che ne fai di roba ragazzo eh però 13 ma penso che siano abbastanza sufficienti quindi eh facciamo due qua grazie e un po' qua mentre lui si fa noi facciamo le varie cose quindi ci vuole una cassa che eh ho due di questi grazie una bella casina poi ci va eh il nostro hopper che siamo a posto poi ci va un'altra cassa perché eh dovevo mettere da qualche parte il nostro coso cioè che senso ha se no e quindi intanto lo andiamo a piazzare adesso lo so che è momentaneo avete pazienza lo so che è brutto da vedere ma eh presto modificherò tutto e sistemerò a penello allora vediamo un po' e siamo a 5 perfettico eh così possiamo farlo tac vai che ci devo fare spurnare una mucca penso e credo che ce la farò eh ecco qua questo qui questo ah non ci va questa non c'è la mod scusate ecco qua fatto che questo questo l'ho preparata che abbiamo visto già come si faceva e io penso e credo e spero di aver fatto tutto allora andiamo a mettere qua pia perché sono non va bene ne ho usate così tante sì evidentemente sì mettiamo via anche questo devo fare uno storage non ce la faccio più della volta così e eh questo qua li mettiamo qua in mezzo a tutta l'altra roba vai questo lo mettiamo via e adesso possiamo finalmente eh fare il nostro che quindi mettiamolo qua mettiamolo qua mettiamolo qua e finalmente abbiamo anche questo sono contento ne abbiamo fatti un altro madonna stiamo andando proprio a ruota libera a fare le creste cos'è questo craft da beacon sapling beacon sapling beacon oh da mangiare beacon è mangiabile c'è nel senso insomma sì sapling beacon beh bacon come cazzo allora si stiema us stiema questa cosa qui eh bacon bacon non bacon 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 eccolo qua vediamo come si fa beh non sembra difficile ovviamente se sapessi come si facesse quello ma penso e credo che deva mettere un maialo così per il naso questo è manualo si può fare anche con questo questo non so cosa sia se si ammazza un cavallo non penso sia la cosa più adatta di quel beacon sto pensando eh perché sicuramente c'è un modo per fare sti così è perché non so se è un drop di un maialo perché io lo posso anche ammazzare maialo però se non mi da drop ho ammazzato un maialo per niente e mi dispiacerebbe scusate signor maialo lo so che lei è bello però deve avere pazienza quindi se io facessi così maialino no grazie faccio la carne marcia no questo no ci arrivo eh promesso che ci arrivo quel chunk no non mi interessa il chunk quindi se lo cuocio facciamo così mi sa che l'unica è fare così nella melter lo metto là e poi ci faccio il il coso della cosa del coso insomma o se no lo metterò questo è un cazzo mi sa proprio che va nella melter ok devo uccidere un altro mi dispiace signor maialo mi sono molto contrito per questa cosa deve capire che mi serve e quindi sì e siamo due quindi vediamo come si fa il coso questo si faceva nella melter abbiamo detto con questo qua che si fa con un un road normale se adesso lo trovo quello questo il talk il talk si fa il talk normale ok no è per capirci non mi ricordo se il talk è quello o quell'altro allora facciamo talk scusate abbiate pazienza plin talk così dovrebbe essere no talk qualcosa sì così uno a cazzo non c'è quello di legno talk road mi sembra che la talk fosse quello normale insomma quello stick speriamo allora per fare lo stampo ah però per fare lo stampo che cazzo devo usare questo non me l'hai detto il gold quindi dobbiamo fare il gold quindi per fare quello devo fare il gold beh non è sembra tanto difficile questo è il lead dobbiamo fare anche il lead dopo il lead c'è il gold quindi dobbiamo andare per forza in fila scusate ma devo anche capire il pack lead ma non l'aveva già fatto il lead ma fatti vedere perché mi sembrava che l'ho fatto forse mi sbaglio ma io sono vecchio e faccio le cacate quindi qui c'è il coal qui c'è il gravel ok qui c'è il tin ah è il tin che aveva fatto non il lead va benissimo lead si fa l'amber amber lead tin lo togliamo lead ah l'avevo preparato ma non l'avevo faccionato e quindi basta prendere il lapis che noi abbiamo qua cominciamo a farlo e siamo a posto dai sono contento così almeno facciamo che questa è già una buona cosa ah si può fare anche così oltre che così beh buono se dovessimo avere solo quelli è una cosa molto buona ma io ne prenderei uno adesso devo capire che complicato si usa però devo cuocerlo ok ecco perché si fa in due modi perché una era una cacata e l'altra era quello buono perfetto ok adesso per il momento li mettiamo qua perché non abbiamo un altro macchinario e facciamo così scusate così ok nove lapis mettiamo di posto questi ecco perché si faceva in due modi va bene facciamo il led perché è importante farlo l'amber led scusate lapis abbiamo fatto con un lapis la pietrific la sand l'aero cioè potete mettere tutta la madonna di roba che ho fatto cioè un po' più di roba non me la potevi chiedere io scendendo tutto sicuramente mancherà qualcosa al 100% tanto è sempre così e vediamo di poi di farlo vediamo ovviamente mi dirà che sono un pirla no a parte quello mi manca la resina della pietra e l'iron allora l'iron non è un problema che è qua ma la pietra è strano che io non l'abbia avesso qua la pietra non l'avevo proprio preso avevo preso poco ecco perché poi l'iron l'iron che devo mettere a posto non ci sto capendo una mazza insomma è un casino allora posto bene e quindi questo io lo posso leadare lo posso buttare anche nella melter se succede qualcosa ma no qua dentro qua dentro funziona così possiamo fare vi ho detto il lead il lead si faceva con l'alboscello che si faceva con i coal che io l'avevo preso mi sembra di averlo fatto io però scusate con i coal ero straconvinto di averlo fatto ma proprio convinto convinto si dice che sono le traveggole può darsi di sì facciamo così e facciamo così molte leade e infatti non funziona perché non funziona è perché ovviamente io prima devo fare così con i molte leade l'alboscello di quercia e io invece invece di prendere l'alboscello di quercia perché sono un piede l'ho fatto un'altra cosa mi sembra ovvio no l'alboscello di quercia si fa nel questo nel qui sì ovviamente adesso non c'è neanche l'acqua ma porca miserica allora mettiamo a posto un po' di cose va che se no mi sto rincoglionendo già più del normalo più di quello che già sono questo va di là del secchio un po' l'acqua andrà bene no perché ci vuole un secchio no va bene anche un po' l'acqua dovrebbe essere sufficiente ok vediamo un po' esatto andiamo pure qua andiamo qua andiamo qua dove di fare il sapere dell'alea ero convintissimo ve l'ho già fatto ma proprio sicuro sicuro no che non mi cioè ci sono fatti due pazienza perché è tappa insomma sì ecco qua quindi abbiamo preparato il tutto che l'abbiamo preparato che cazzo ho preparato che non c'ho niente l'ho preparato prima devo fare un altro e porca miserica e vabbè data così che ci vuolte fare allora adesso abbiamo questo io l'avevo fatto non me l'ha segnato dunque ferro ferro dove avercelo due sono sicuro di averlo da un'altra parte però non mi ricordo dove quindi lo farò tanti saluti ah e vabbè facciamo qua siamo a posto così facciamo anche questa quest ecco qua e anche questa è fatta bene adesso così possiamo andare spediti verso il gold e dal gold possiamo fare i vari pezzi per fare tutte le altre cose adesso un contento adatto bene quindi ragazzi direi che ci possiamo salutare qui per questo video di tutto video come al solito lasciate un commento se vi piace la serie e di farmi appunto sapere cosa ne pensate e per adesso vi do un saluto ciao ciao ciao